Questo video spiega perché esiste Fondazione Ronald, mostrando diversi momenti in cui un figlio ha bisogno di avere vicino la propria famiglia. Il video inizia. Siamo in sala parto. Una mamma stringe a sé suo figlio che smette di piangere. Nell'altra stanza un bimbo si inghiozza tra le braccia della madre dopo un'iniezione. Una mamma consola sua figlia che è caduta dalla bici, la prende in braccio e si allontanano. Una bimba è sola in ospedale, ma appena arriva la madre ritrova la serenità. Compare la scritta per tuo figlio vuoi esserci sempre, soprattutto quando ne ha più bisogno. È per questo che esiste Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald. Compare il logo di Fondazione Ronald e la scritta scopri di più su gestisolidali.fondazioneronald.it